Ora ragazzi questa è una cosa storica, di domenica non c'è la ZTL, un giro per il centro di Fraschiati di domenica, una cosa storica, non succede da nessuna parte qui nei dintorni che la domenica non ci sia accesso al centro storico, guarda pure questa strada con Merito tanto che roba, quasi quasi vi porto a via Regina Margherita, approfitto d'esta circostanza e del traffico che non c'è, vi porto a via Regina Margherita per farvi vedere com'è ridotta, onnaggia la miseria e si dai che invece porto va